dopo tanti anni torna nel quartiere di vallato vallato in festa sì proprio così esattamente stiamo accendendo i motori anzi stiamo accendendo i fornelli per queste tre serrate di vallato in festa sono vent'anni che al vallato il vallato non ha più una festa di quartiere e siamo stati proprio noi dell'organizzazione vallato dopo 15 o 16 anni a terminarlo nel 1996 quindi siamo in i primi a fanno ad avere organizzato una festa così grande con i catering eccetera e oggi ci riproviamo ma certamente non sarà un festivalato stiamo facendo le prove poi vedremo in futuro vogliamo fare tre serate all'insegna della famiglia del divertimento del buon mangiare del ballo e dei giochi per bambini il catering di quest'anno sarà il bello e la bestia di daniele che tutti conoscete a fanno per il suo famoso pesce soprattutto il brodetto che potrete gustare alla nostra festa per gli amanti della carne potranno trovare anche la carne quindi faremo pesce e carne per tutti troverete le migliori ocaste della zona venerdì sera avremo la fisa del maestro mangani sabato in neutro a terra domenica la belle pop per informazioni a chi bisogna rivolgersi per chi vuole informazioni può chiamare al nostro circolo 0721 17 97 052 e chiedere informazioni comunque i posti ci sono ci sono 500 posti a sedere quindi garantiti quindi cosa manca per il momento non manca niente ma venerdì sabato e domenica venerdì 28 sabato 29 domenica 30 mancate solo voi vi aspettiamo tutti numerosi nella zona sportiva all'organizzazione vallato fano